Siamo arrivati in Lombardia addirittura al punto per cui consegniamo in anticipo le opere rispetto al programma che ci eravamo impegnati a rispettare. Otto mesi prima la terza corsia che va verso Varese viene consegnata e dentro luglio sarà completata anche la terza corsia nella direzione verso sud. Sono opere fondamentali per dare maggiore velocità di spostamenti ai nostri cittadini e anche alle nostre merci e per dare più sicurezza e per avere meno impatto ambientale del traffico. Grande collaborazione tra Regione Lombardia e Autostrade per l'Italia e grande soddisfazione perché Varese e Milano devono essere più vicine, devono essere più facilmente raggiungibili. Quindi questo è un progetto che abbiamo preparato da tempo e abbiamo realizzato in tempi di record. Anche in questo modo si aiuta la ripresa della Lombardia e dell'Italia, la ripresa dell'economia perché si realizzano infrastrutture di cui il territorio ha bisogno per essere più veloce nei collegamenti e si mettono in campo delle risorse, milioni e milioni di euro che danno lavoro a centinaia di famiglie e a centinaia di imprese. Grazie. Arrivederci a tutti, è di nuovo.